Senti, dobbiamo tagliare qualche tappa. In otto giorni non ce la facciamo. Almeno i gemelli siamesi diversi e Garibaldi che piange, tagliamoli. No, i semeniti le vogliono tutte, eppure documentate. Ma si può sapere chi minchia sono sti semeniti? Tutto ha inizio con Alam Salab, un botanico arabo arrivato in Sicilia nel 1297 che, ispirandosi al De Plantis di Aristotele, arrivò a teorizzare che dalle viate... Vabbè, vabbè, non mi interessa, basta che pagano. Pagano, pagano. In teoria.